Un virus contratto in Africa che si è rivelato fatale per il suo fisico, già minato da un terribile incidente e da una rara malattia, causandone la morte a soli 44 anni. A Pamela Cazzaniga, consigliere comunale di Valmadrera, scomparsa lo scorso marzo, la sua città ha deciso di dedicare un fondo benefico in viaggio con Pamela. Due riunioni volute dalle amiche e compagne di classe insieme alla mamma Luisella Fomagalli hanno portato a mantenere un impegno che era stato subito assunto dopo la prematura scomparsa. Costituire un fondo per ricordare la generosità di Pamela, il suo entusiasmo di avere una seconda chance dopo l'incidente in cui era scomparsa l'amica Elisa e che aveva costretto lei a vivere in sedia a rotelle, i suoi viaggi organizzati per favorire in particolare le persone con disabilità. L'iniziativa che fa parte del fondo della comunità di Valmadrera premierà annualmente un disabile che è riuscito, esattamente come Pamela, a superare le difficoltà. La presentazione ufficiale è in programma dopo l'estate, allo studio la costituzione di un'associazione in modo che chiunque abbia conosciuto o condiviso quanto fatto da Pamela possa aderire. La frase finale del documento stilato dal comitato dice così «è il modo migliore che abbiamo per tenere viva una delle più grandi convinzioni di Pamela, l'impossibile è solo negli occhi di chi guarda». Grazie. 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 Grazie.